Abilità, creatività e tanta passione all'Ipsar Luigi Carnacina di Valeggio sul Mincio nel Veronese per la decima edizione del concorso Eno Gastronomico Ristorazione Diversa che ha visto giovanissimi chef diversamente abili impegnati nella preparazione di un cocktail o nel servizio in sala. Questo evento dopo tutti questi anni di Covid, ripartire così, vedere tutta questa gente nuova, tutte con la stessa passione, è fantastico davvero. Un concorso di ragazzi diversamente abili. Gli istituti alberghieri hanno una grande richiesta di partecipazione di questi ragazzi all'interno delle classi, la famosa inclusione. Abbiamo, anni fa, capito che sarebbe bello, carino fargli fare anche a loro questi concorsi, dato che anche già i normorotati vanno. È già dieci anni, infatti questo è il decimo anno che lo proponiamo. Siamo stati il primo istituto a proporre questa tipologia di concorso e arrivano da tutta Italia due ragazzi, uno di sala e uno di cucina e avranno un certo tempo per poter preparare in cucina due preparazioni, un tiramisù quest'anno e un secondo piatto. E invece in sala dovranno preparare un cappuccino all'italiana, un cocktail tiki, che è un cocktail di tendenza, e poi una mise in place abbinata al piatto. Quindi delle cose di sala, di come si fanno i cocktail, i cappuccini, come si montano e quanta velocità bisogna avere quando si fanno queste cose perché bisogna essere veloci e non essere troppo lenti mentre si fanno. Io devo seguire principalmente quella che è la direzione dei ragazzi diversamente abili, in quanto loro sono già preparati nella preparazione dei piatti e io devo solamente intervenire in caso non me lo dicano appunto i coach. I concorrenti arrivano da tutta Italia. Al loro fianco altri studenti, tutor, che li supportano nella gara che viene valutata da giudici inflessibili su qualità e risultato. Io ormai sono dieci anni che partecipo a questa manifestazione. Il concetto di diversità è soltanto un concetto lessicale. Questi ragazzi si applicano, studiano, si impegnano come qualunque altra persona. E alla fine questo è un buon banco di prova per far capire che tante volte noi che ci sentiamo forse migliori, in realtà siamo noi quelli diversi. Quindi un bel bagno di forza, di energia e soprattutto di creatività lavorativa. Grande impegno ed entusiasmo da parte di tutti i ragazzi che provengono da istituti albergheri di Roma, Alassio, Torino, Pesaro, Cervia, solo per citarne alcuni. Al vincitore una medaglia, la Coppa per l'Istituto di Provenienza e una divisa tutta nuova. Grazie.